Allora io non so perché, un po' come l'amico prima delle batterie, mi vengono in mente cose strane, sarà la quarantena, sarà la pandemia, la pandemia canaglia, non lo so, però in questo momento che stiamo per collegarci con Picozzi, me lo sono immaginato in casa vestito da Mrs. Doubtfire, ma non lo so perché. Ma perché? Lo sembra che lui è sempre uguale con la sua canotta e il mutandone in giro per casa. Devo dirvi che comincio a dubitare del vostro inconscio, le immagini che vi sorgono spontanee vanno in quella direzione. No, però attenzione, vi suggerisco questo spunto narrativo. Allora, una delle cose, attenzione, che potrebbero essere implicate dallo stare in casa è che delle persone che eventualmente hanno dei piccoli rituali segreti che normalmente non possono mettere in atto perché hanno una vita pubblica e devono andare in ufficio, magari adesso stando in casa lo possono fare. Cioè, quello che c'ha la perversione di vestirsi da donna, come succedeva in un film, ricordo che c'era uno in un film. Ross, ma a nessuno è venuta in mente questa cosa? Perché ti viene in mente questa cosa? Solo a te. Perché io sono vestito da donna, mentre lo dico. Ah, ecco. Volevo liberarti, avevo bisogno di dirvelo, va bene. Massimo, Massimo, buongiorno, Massimo. Buongiorno, buongiorno a voi. Cosa gli dice quest'uomo? Cosa gli racconti? Che gli sta prendendo? Che questa pandemia sta tirando fuori il meglio anche di lui. Stavo pensando alla sua compagna, se si invertissero i ruoli a questo punto. Io in realtà, vivendo e convivendo con una figlia di 25 anni, girare per casa vestito da Mrs. Doubtfire, la vedo un po' difficile. Ma non è solo vestito da donna, anche che ne so, quello che c'ha la perversione di… dimmene tu, Picozzi, sei tu il criminoso. Io in realtà stavo pensando che siccome la convivenza forzata in genere è più di famiglia, di gruppo, che non dei singoli, anche se ce ne sono molti, francamente avere delle piccole manie, piccole abitudini e non poterle frequentare, mi sa che è veramente il problema. Altro che frequentarle il doppio. Ma io non riesco a capire, ma i vestiti da donna dove li hai presi? Non hai potuto rubarli alla tua fidanzata perché è più piccolina di te? Cioè tu li avevi nell'armadio? Assolutamente sì, cioè è una collezione per cui, figuriamoci, ho attinto al mio guardaroba. Allora Massimo, con te abbiamo deciso in questi giorni attraverso varie riunioni che abbiamo anche poi reso pubbliche sui nostri social. Ecco, con queste foto che ho postato ieri su Instagram e Facebook, taggando tutti i colleghi. Ah, non le ho viste? Quelle non le ho viste? No, non le ho viste. Il tuo orribile piede, tra l'altro. Piede d'autore, ragazzi. Piede d'autore, altro che d'autore. E abbiamo deciso appunto di confermare comunque Massimo perché è incredibile, Picozzi parla di cose tremebonde ma risulta rassicurante. Questa secondo me è la grande cifra stilistica di Massimo Picozzi. Però in questi giorni abbiamo pensato, Massimo, che non fosse il caso di parlare di delitti, visto quello che già accade. E quindi di cosa parleremo invece? Direi che il taglio di questi nostri appuntamenti che vorremmo iniziare, appuntamenti che io penso possano essere tutti lì, è tutto sul principio di quella che si chiama la psicologia positiva. Cioè quello di avere delle indicazioni per, la psicologia positiva viene definita lo studio scientifico di quello che rende la vita più degna di essere vissuta. Se l'ha inventata uno psichiatra americano che si chiama Martin Seligman e naturalmente ha dato tutta una serie di indicazioni su cosa fare, e soprattutto anche in questo momento particolare che affrontiamo un po' tutti insieme. E la cosa su cui lui ha posto l'accento è il discorso della incertezza sulle informazioni. Di fatto, secondo me, e qua già arriva una prima indicazione pratica, oltre alla pandemia si è sviluppata quella che viene chiamata in gergo infodemia. Eh sì, abbiamo parlato in questi giorni, sì, l'eccesso di informazioni, no? Questo è male, vero? Questo è male, tant'è vero che una delle cose, secondo me, più sagge che sono state adottate dai politici è quella del bollettino che viene emesso congiuntamente dall'Istituto Superiore della Sanità e dalla Protezione Civile alle 18 di ogni giorno. Per cui a tutti quelli che ci ascoltano dico, signori, avete un canale mediatico preferito, che sia televisivo o radiofonico, ecco, fidelizzatevi su un solo, una sola fonte di informazione che vada a riprendere i dati, informazioni e tutto da questo appuntamento di ogni pomeriggio alle 18. Altrimenti il discorso, naturalmente, perché questa cosa vi dico? Perché l'abbiamo già citata altre volte. Il nostro cervello è sensibile molto, ma molto più sensibile alle notizie negative. Non c'è niente da fare, è una questione evolutiva. Cioè, per riuscire a sopravvivere come animali in mezzo a tutte le insidie, dovevamo stare più attenti ai pericoli che non ha le cose belle. Quindi, ogni volta che ci arriva una notizia negativa, statisticamente ci vogliono dalle 3 alle 5 notizie positive per neutralizzarne una negativa. Per cui è chiaro, e questo è un consiglio che do anche sull'abuso dei social. I social in questo momento sono fondamentali per tenere i rapporti con amici e parenti, ma vederli e frequentarli sistematicamente per ore e ore e ore rischia di passare una quantità industriale di informazione negativa. Quello che dicevi tu è fidelizzarsi, cioè fidarsi o seguire soltanto una cosa. Cioè, tipo, io amo quel giornale lì, devo seguire soltanto il sito di quel giornale. Non cercare quella notizia da mille fonti, perché se no sto cercando quella brutta. Sì, se no quello che ci arriva è una quantità industriale, la confusione sull'incertezza. È vero, quello che dicevi tu, Ross, prima è sacrosanto, qui gli scenari cambiano. Di momento in momento è quello che abbiamo detto prima, poi non vale più. Signori, la coppia di Cinese che è stata ricoverata allo Spallanzani è stata ricoverata due mesi fa. Sono passati soltanto due mesi. Eh sì, sembrano tre anni, ma in realtà sono solo due mesi. Addirittura il giorno in cui è stato ricoverato il paziente 1 a Codogno era il 21 di febbraio. È passato un mese. Pazzesco, pazzesco. Però in mezzo, in mezzo sono volate. Sì, no, ma il problema è come... Io oggi ho scoperto una frase, potevo scoprire la prima, la mia ignoranza, del Manzoni che si riferiva alla peste del 1630. E Manzoni disse nei promessi sposi, il buon senso c'era, ma se ne stava nascosto per paura del senso comune. Ah, bellissimo, me la ricordavo questa frase, sai come la ricordavo. Che mi sembra veramente estrepitosa. Perfetta, adattissima. Però, attenzione, ecco, io non voglio assolutamente perché poi voglio dare a chi ci ascolta dei consigli pratici e in positivo. Però, ragazzi miei, vi ricorderete che quando furono ricoverati i due cinesi si parlò subito del pullman degli untori, che era il pullman su cui viaggiavano, che avrebbe diffuso, come a dire, attenzione agli untori. Peccato che poi si sia scoperta. Senti Massimo, ci piacerebbe coinvolgerti anche nell'altro contest che abbiamo lanciato, cioè questo disco rifugio, cioè quella canzone che a un certo punto la fai partire in casa e ti dimentichi di tutto e ti rifugi appunto per tre o quattro minuti in quella canzone lì che improvvisamente ti fa quasi sentire come se niente fosse successo. La vogliamo far scegliere a te? Allora, guardate, io ho una canzone che per me è ideale in questa maniera, un momento di resistenza e di propositività che è We We Rock You dei Queen perché l'associo alla discesa in campo della mia squadra, del cuore all'epoca, per cui c'era un certo Rino Gattuso che quanto a carattere e a grinta non è secondo a nessuno, che apriva proprio la sgambata di riscaldamento sulle note di We We Rock You. E allora andiamo. Chissà quando potremo riandare ai concerti, porca miseria, quando succederà? Non abbiamo detto in questi giorni che stanno ovviamente cancellando un sacco di festival strafamosi nel mondo, Rastomburi, Coaceli, cioè tutto il mondo dei raduni e dei concerti per il virus, forse, come dire, proprio la manna che cade dal cielo, quindi ovviamente non si possono fare, no? Chiaro. Peccato, peccato, ma li recupereremo tranquilli, li recupereremo, andrà tutto bene. Picozzi, insegnaci a pensare che andrà tutto bene. Il mese che sta passando adesso era il mese in cui avevo almeno otto appuntamenti in giro per Italia a incontrare medici e infermieri, per cui dovevo andare da Brindisi a Mestre proprio per incontrarli sul tema della gestione delle emozioni, quindi diciamo che anch'io ho qualcosa che mi manca. Allora Seligman, questo professore universitario dell'Università della Pennsylvania che si è inventato, ha proposto una sua ricetta per rifocalizzare, per rimettersi un pochino sul razionale. E la proposta, in quattro passaggi, lui l'ha chiamata Metti tutto in prospettiva. E il primo passaggio è quello di chiedere a se stessi qual è lo scenario peggiore possibile. Cioè proprio di fantasticare il peggiore possibile. Lui ad esempio ha 77 anni. Cioè si inizia da un punto il più negativo per poi… Il più negativo, il più negativo. Naturalmente dipende da come stai, dall'età che hai, eccetera. Lui ha 77 anni, vive in una cittadina che adesso è nel lockdown e naturalmente per lui i peggiori pensieri possibili sono questi. Sicuramente sarò contagiato perché mia nipote, oltretutto che vive con me, va a scuola, in quella scuola lì, della cittadina, sicuramente me la trasmetterà e una volta contagiato la mia sarà certamente una forma grave e dato che ho più di 70 anni morirò sicuramente. Ok, il peggio del peggio insomma. Questo è il peggio del peggio. Tenete conto naturalmente che tutti gli scenari della psicologia di questo tipo, che si affida anche alle neuroscienze, sono scenari in cui si è sperimentato che questi pensieri possano modificare il cervello. Tra le altre cose, una cosa che non c'entra con Seligman, ma la dico se non me la dimentico, ci sono studi scientifici che dicono come ampliare l'orizzonte fisico di un 20-30% possa incidere sulla possibilità di ammalarsi. Cioè, se guardi il cielo, guardi l'orizzonte, lo allarghi rispetto a quello che fai abitualmente stando chiuso in casa, sempre ovviamente che tu abbia la fortuna di avere un balcone, questo fatto di guardare il cielo riesce a spostare il lato immunitario, cosa che curiosamente il verde non riesce a fare. Cioè, l'azzurro del cielo ti rende più forte e più di buon umore che non il verde del prato. Torniamo. Perché credo che a livello proprio ancestrale il cielo significhi l'infinito, la possibilità di sentirsi parte del tutto. Certo, però capite che questa è un'indicazione delle neuroscienze che è praticamente traducibile. Avete un balcone, potete vedere il cielo, copritevi bene in questi giorni che fa particolarmente freddo, uscite sul balcone e passateci mezz'ora. Cioè, in teoria, per i fortunati, tipo mia sorella che ha il balcone di fronte al mare, il mare secondo me è ancora di più, se uno potesse vedere il mare. Io vedo l'antenna di Mediaset. Ecco, beh, è il tuo lavoro. Cosa faccio? Devi essere assicurato. Il mio lavoro, vabbè. Beh, ma siccome è alta, l'antenna di Mediaset è comunque uno squarcio di orizzonte, sicuramente te lo porti in casa. Certo, certo. Primo passaggio di Seligman è il peggior scenario possibile e il secondo è quello di sforzarsi di pensare alla migliore evoluzione possibile, che naturalmente è quella del non verrò contagiato, nessuno della mia famiglia verrà contagiato, tutto passerà e tutto andrà bene. Quindi dall'altra parte, proprio il più positivo possibile. Quindi rimbalzare completamente. Il terzo passaggio è quello di dire a se stessi, ok, ma adesso considera quello che è più probabile che accada, che è quello più probabile, cioè più fattibile, più concreto, che è anche quella più razionale in qualche modo, no? Più razionale, certamente. E il terzo passaggio è per cui, benissimo, dice Seligman a se stesso, probabile, è possibile che io possa anche essere contagiato, ma come la maggior parte degli adulti i miei sintomi saranno moderati, siccome sono in discreta forma fisica, starò male per due settimane e poi riuscirò a superarlo. L'ultimo passaggio alla fine è quello di sviluppare un piano per lo scenario più realistico, cioè non stare a rimuginare. Perché attenzione, questa cosa ad esempio di, sto pensando anche alle molte indicazioni un po' new age, immaginate scenari, spiagge assolate, mettete una musica assolutamente rilassante. Ecco, per molte persone questo tipo di indicazione... A me fa incazzare questa cosa! Ti parte via il cervello che ma... Infatti! Per cui, attenzione a queste indicazioni proprio così, la mindfulness che funziona molto bene per chi la pratica da tempo, la meditazione... Va benissimo! Per quelli come me no! Ecco, se... Ecco, no. Io ad esempio vi dico la mia situazione personale che quando io mi sveglio abbastanza presto al mattino, io so per certo che il mio cervello parte immediatamente alle sei del mattino su una rassegna di tutti i disastri possibili e immaginabili. Sapendo questa cosa, forzatamente io mi alzo, preparo la colazione in una maniera un po' più accurata di quello che faccio di solito, mi guardo un documentario assolutamente sulle reti, sulle televisioni private o pubbliche, trovate sempre un documentario di quelli che io definisco effetto acquario o caminetto, cioè tu li guardi, affari di famiglia tanto per non fare nomi, piuttosto che persone che vanno in giro cercando robbi vecchi che gli vien da... ecco, questa cosa mi interrompe immediatamente un loop del cervello, io dopo una, due ore inizio a mettere tutto in profilo. Fammi capire, sposta la tua attenzione da un'altra parte in modo che il loop che c'era nel cervello, pian piano diventa sempre più lento e poi scompare, ok. La distrazione è la... più ancora che il relax immaginando appunto spiagge tropicali, è la distrazione. Molto interessante Massimo, ma ne facciamo un altro, rimani ancora lì con noi un po'? Ma rimango ancora qui con voi e vi dico altre cose che secondo me possono essere utili. Io intanto vado a vedermi il documentario sulle pecore che così mi rilassano. Senti Picozzi, dove siamo arrivati? Dove siamo rimasti nel nostro percorso? Guarda, volevo dire però questa cosa, la potenza della radio. Mentre eravamo in onda mi è arrivato un messaggio di un carissimo amico che si chiama Remo Croci, che è un giornalista di Medias e che è in giro con la troupe, che mi ha praticamente scritto complimenti per la scelta della canzone di We We Rock You, perché praticamente ha dato la carica a tutta la troupe che è in giro per l'Italia registrare. Li salutiamo anche noi, li salutiamo anche noi. Si chiama Remo? Remo Croci, sì. Ciao Remo. Grande, grandissimo. Allora, avevamo lasciato indietro l'ultimo passaggio di Seligman, per cui il quarto e ultimo. Il primo passaggio vi ricordo era qual è il peggior scenario possibile, il secondo la migliore soluzione possibile, il terzo la cosa più probabile che accada e l'ultimo passaggio era quello di sviluppare piani nel piccolo, nel concreto per lo scenario più realistico. Ad esempio quello di fatti la lista della spesa, vedi di avere tutto, che cosa ti manca di farmaci, riordini i tuoi armadietti e quindi di fare un piano di azione, di intervento sulla base peraltro dello scenario più realistico. Altra cosa che invece volevo dirvi è che naturalmente ci sono altre indicazioni da seguire. Ecco, il nostro cervello è sensibile al di là del dover trovare un senso in ogni cosa e quindi la confusione delle informazioni alimenta i complottisti perché assolutamente hai bisogno di trovare un colpevole, un responsabile. L'altra cosa è che noi siamo appunto strutturati per esistere al cambiamento e quindi stravolgere completamente i nostri ritmi di vita ci mette in totale ansia, indicazione pratica. All'interno delle vostre case cercate di ricostruire una sorta di quotidianità seppur assolutamente artificiale. Cosa significa? Significa che datevi una scaletta di e non vivete le ore così buttati sul divano senza avere delle tappe. Sai Massimo che quest'ultimo punto qui per quanto mi riguarda è fondamentale. Io non solo cerco di darmi una scaletta ma faccio più cose, mi sto sforzando di fare più cose di quelle che facessi prima. Ci vorrà poco, qualcuno dirà perché tanto spesso di pomeriggio dormivo, però no scherzo. Però insomma io proprio mi sto un po' riempiendo di cose, ho cominciato a fare la ciclette, sto cercando di scrivere perché se no veramente pascoli tra il divano e le news e diventa una cosa proprio letale. Certo, però tieni conto, vado in quella tua direzione ma ancora più estremizzata, cioè il rituale è rassicurante per cui sarebbe interessante che tu avessi questa scaletta dalle 8 alle 9 colazione, dalle 9 alle 11 ciclette, dalle 11 alle mezzagiorno preparo il cibo, poi la televisione la guardo dalle 3 alle 5. Ecco, qualcosa che sia comunque ricostruisca una sorta di scansione quotidiana perché noi siamo abituati a vivere comunque con dei ritmi che sono saltati. Ma scusami, lo facciamo normalmente, automaticamente, naturalmente se finiamo per esempio costretti in ospedale, se stiamo facendo un… Io per esempio in carcere stavo pensando, l'estremo, quello che tu mi dicevi, l'estremo, uno che è costretto a stare in carcere, si crea comunque o come per comolo dicevo all'inizio della puntata quest'oggi, cioè che è dovuto rimanere un mese in ospedale, si crea realmente una scaletta della giornata in modo che non sia una giornata persa, non sia una giornata noiosa. Certo, però questo va contro le abitudini di molti, ad esempio di questi tempi, comprensibili per carità, ti butti sul divano, accendi la televisione e passi delle ore e naturalmente dopo un po' ti distrai, non guardi più nulla e il tuo cervello però comincia ad andare in lupe e non esci più. Oppure ti guardi Instagram piuttosto che Facebook o Twitter e anche lì, è fondamentale, ancora di più per chi è segregato in casa con bambini, cioè a questi bimbi occorre comunque dare una scansione giornaliera per cui la mattina ci si alza a un'ora stabilita e non si dice a se stessi, intanto non abbiamo nulla da fare per cui possiamo tirare su i bambini quando vorranno, quando si sentiranno pronti, al mattino colazione e poi si fanno i compiti, la televisione e i cartoni animati dalle 2 alle 4 e una cosa che i pediatri hanno suggerito per chi ha bambini, che ho visto che funziona benissimo, di attività da fare insieme è cantare e ballare. Come diceva questa mattina la Unziker, che lei fa esattamente così. Evidentemente avrà raccolto indicazioni o è una brava mamma così di default, ma l'idea proprio di cantare è probabilmente una delle cose più coinvolgenti e probabilmente anche più divertenti. Una cosa invece che non va assolutamente fatta in una coabitazione forzata, nel caso in cui la coppia non sia perfettamente in sintonia, è quello di rispettare le comfort zone di entrambi. Cioè siamo abituati ad avere spazi personali, in casa sicuramente non abbiamo lo stesso spazio che abbiamo abitualmente, però chiediamo e lasciamo uno spazio e un tempo senza incalzare, senza volere ad esempio a tutti i costi sistemare tutto ciò che è in sospeso. Giusto. Massimo sai che è stato molto molto interessante e martedì prossimo lo rifacciamo con degli altri consigli, peraltro Seligman, volevo dirti che è anche una città piccolissima dell'Arizona in cui io sono passato. Grazie Massimo, grazie per il tuo intervento e a martedì prossimo. Grazie a tutti. Grazie a tutti.